Buongiorno 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 Non si riuscire per fituare che non si riuscire a fare un propozimento. Ma io ero di fare un propozimento concreti? Non si riuscire, non si riuscire a fare un propozimento concreti. Dove fare un propozimento concreti. Dove fare un giorno, il Presidente si metà. Dove fare un propozimento. Per cui, da pico, potrebbero essere le 5 gruppi. Si non si riuscire, non si riuscire, non si riuscire. Cilie dove i ritmi, le riuscire. dobbiamo per fare si il si ha il voglio direttim e Ma io mi soffi ma a per realizzimit e un'e marveshe o se ulje se palve në Tlueza, po mullar, se stai ishim, che pare se Presidenti smertet e questo vendim? Si, che quando da trego in le giorni, un'e giukoi che siamo ma afer, si atmosfer, o dhe thasht, che tu mi soffi se palve atti, da facciam pretendimi che da 30, da bëhen zgelet, si che mi mendojnò, che mi mi mbletur tu, che mi mba mbletur, ma bete kote. Do t'bojemi gati per beteja e tira, per rathanat tira, che non do t'ishti mira edhe vlefshme per Shqipëria. Kjo e che giita, realiteti i sotu ma, do ishte e kote, ngritishim pritishmori e mba larta se sa. Kjo e che falenderojn Presidenti per iniciativit gjimare, che n'i kuraje oma dhe, che hap një apsir, një dritar.